Hai sentito la novità? Oggi la forza dello sgrassatore Chanteclair è anche nel nuovo detersivo lavatrice con formula potenziata che unisce l'efficacia del detersivo alla potenza dello sgrassatore Chanteclair anche contro le macchie più difficili Hai visto che pulito incredibile? Chi pulisce più di Chanteclair? Chanteclair, il gallo del pulito